Siamo in uno dei luoghi più belli della città, siamo nel porticciolo di Ognina. In questo punto, che era una sciara, oggi questo è diventato una piazzetta, con un'azione importante di recupero. Ci sono alberi, panchine, un punto di aggregazione bellissimo. Da una parte l'Ettra, dall'altra il mare, in uno dei luoghi più belli della città. Lo consegniamo ai cittadini e la cosa bella, i ragazzi dell'istituto nautico hanno deciso di adottare questo spazio, verranno, vigileranno, faranno attenzione e interverranno perché sia mantenuto così bello come è illuminato, quindi si può venire a leggere un giornale, a bere qualcosa in, ripeto, uno dei luoghi più belli della città.